la seconda cosa adesso mi chiamo Barbara chi è che voleva la penna qua? chi è che voleva la penna? chi è che voleva la penna? guarda, guarda la penna qui c'è un'altra qui c'è una battaglia ma lo scrivo tu faccio tu faccio sei finita se prendi se stai aggirato sei finita se è fer Vele hai ancora rispondi oggi a o ci sono ci sono lie si con del è un quante non viego i sono s Grazie. Grazie. Dai, dai. Dai, dai, ragazzi. Aspetta che, dobbiamo ancora attaccare questo lavoro. Aspetta, dobbiamo ancora attaccare questo lavoro. Ragazzi, io vi dico una cosa. Scusate, come si chiama quello l'integratore? L'integratore, l'integratore. Eh. E allora, c'è sempre con le dati. Eh. A me sembra vinello, eh. No, no. O mi sbaglio? Eh? È la vineria. Eh. Ma dopo vi facciamo l'antidoping, eh. Eh, ragazzi. Faccia quello l'antidoping. Il ragazzo lì ha il ginocchio. Con il ragazzo lì, come mai? Eh, lui che viene da doping. Eh. Ragazzi, non bevete che dopo c'è l'antidoping, eh. Ah, voi di dove siete? In Pagano. Ah, beh. Bel gruppo. Sì. No, siamo neanche un quarto. E là? Gli altri arrivano o no? No. Ah, peccato. I migliori siete qui, insomma. Giusto? Esatto. Eh, caspita. No, siamo neanche un po' No, sì. I ragazzi con la benzina Ma dovete berla prima di partire Oh ragazzi dovete berla prima di partire Adesso hai preso anche l'assistente personale Ma lui corre con la musica Allora una bella foto di gruppo Sei emozionato? Vai Aspetta una con il mio telefono Vai Ma che me la manda Me la manda Mia cucina Aspetta una con il mio telefono Adesso era una giornalista Che c'era la sinistra Guarda che Fatale scout Ascolta Ah Barbara dietro ci sono soldi Ma non c'è la foto Ah Metteva il pacco Ma ci sono soldi Quindi siamo a posto Io ho venuto bianco No ma i soldi sono per chi fa le foto Ah ok grazie Ok ragazzi Chi è il vincitore? Oh bravo C'ha anche gli occhiali Ah si No Si nascondono tutti Dai va bene Vediamo dopo la fine eh ragazzi Non posso dirlo però vincerò io Ok Grazie Ci fai una foto qua? Certo Facciamo anche un primo piano Qui sono le prossime corse allora Sì è la prossima corsa Vedi che ci fa la foto Con noi Vieni vieni Ma no con noi No con noi Ma no con noi Dai dai Eh eh Dai Vai Ok Grazie Niente di nulla Ciao Ciao All'inizio tutti vanno in baiacchi Quando fanno invece il secondo giro Arriveranno solo con gli indici E devono aggiunti il giro Cioè della discesa Quindi primo giro tutti Quando arriva il secondo giro davanti E con gli indici Tanto sono avvicino a noi Ok Quello lì è uno svuoto importante Perché se vanno in paese Mi arrivano in baiacchi Cioè il secondo giro E non devono aggiungere il primo giro Perché se vanno giù Quella 5 Quello lì è una zona Stantecima C'è quello che lì deve sapere Primo giro tutti Secondo giro Nel giro Io sono qua dietro Io sono qui La spandiera Io lo pregevo a 2 2 2 Porta 4 5 Eccomi 3 C'è quello che è detto C'è tutto questo Allora Guardate questo Guardate il mio Com'è Guardate questo Venti persone Venti 20 22 No 22 che mi chiamano ma lui è un po' 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 ma lui è verso le 25 19 20 23 24 24 25 26 26 28 25 22 28 32 30 31 32 33 32 33 33 31 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.